Tentativo di incendio Il rogo di ieri sera è stato contenuto e spento dai vigili del fuoco che hanno lavorato circa due ore. Sul posto la notte scorsa è intervenuta anche la polizia con la squadra. Il rogo di ieri sera è stato contenuto e spento dalla squadra volante alla quale è poi subentrata per le indagini la mobile. Le ipotesi nessuna esclusa, nemmeno quella dolosa. Ancora una volta avrebbe dichiarato alla polizia, il proprietario dell'agenzia Ippica, di non aver mai ricevuto minacce di alcun tipo, né inerenti all'attività lavorativa né a riguardo della sfera privata. L'inchiesta è stata aperta dalla magistratura.